una santa sera da tutti amici e amici e amici carissime e bentornati o ben ritrovati in particolare a chi sta seguendo la diretta ma anche a tutti coloro che ascolteranno la differita di questa sesta puntata del ciclo di catechesi vizi e virtù in cui dobbiamo stare purtroppo ancora nella cattiva compagnia pessima compagnia della superbia e di cui nella puntata precedente abbiamo conosciuto i fratelli gemelli un fratello una sorella veramente l'orgoglio e la vana gloria ed oggi conosceremo le sette stramaledette figlie ecco alcune delle sette teste malefiche o meglio sette più che teste appunto figlie proprio quindi cioè frutti potremmo anche chiamarle quindi conseguenze quindi ramificazioni ulteriori di questo orrido e folle vizio come abbiamo visto questo è il vizio folle per antonomasia e il vizio folle per antonomasia produce comportamenti come vedremo cose similmente insensate stolte fuoriere di danni e tanto altro insomma allora vedremo che la superbia oltre a questi appunto fratelli gemelli che abbiamo visto e alle figlie avrà anche diverse specie e ben 12 gradi quindi ci aspettano ancora questi step ulteriori per esaurire l'argomento conoscere le figlie conoscere le specie poi tenuti per mano da da san bernardo che ha scritto un'operetta che è un capolavoro e si accomando di leggere se si trova in giro non è tanto facile trovarla è i 12 gradi dell'umiltà e della superbia no che mostrano praticamente come la superbia e l'umiltà si possono mettere in scala su 12 gradi no dove praticamente il primo grado della superbia ha il suo opposto insomma ecco nelle nelle forme opposte del dell'umiltà è molto 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 bello vedremo se credo che riusciremo a dare un'occhiata anche a questo prima del termine della nostra analisi allora andiamo un pochino a vedere oggi le sette figlie della superbia che anzitutto le nominiamo poi cercheremo di andarle a scandagliare sono la discordia la contesa la millanteria la pretesa di novità l'ipocrisia la pertinacia e la disobbedienza queste sono che cosa significano appunto figli cioè quando uno si comporta in questo modo in uno di questi modi che adesso andremo a focalizzare significa che sta agendo sotto la mozione della superbia perché vi ho visto che la superbia è un vizio spirituale quindi che poi però deborda in comportamenti concreti allora la discordia e la contesa ecco sono due mondi abbastanza affini anche se distinti cominciamo dal primo la discordia la discordia è l'opposizione della volontà propria a quella altrui discordia significa non essere d'accordo no ossia attenzione la pretesa di imporre sempre e in ogni circostanza la propria volontà o la propria posizione su quella degli altri rifiutando di accogliere con umiltà e amore e con rispetto le posizioni legittime o anche discutibili del prossimo quante discordia derivano dal fatto che si vuole semplicemente cercare di imporre la propria volontà che non va imposta mai ma figuriamoci poi nelle cose opinabili e discutibili pensiamo a quante veramente a quante contese a quante discordie nascono semplicemente dalla mancanza di rispetto cioè le persone la pensano diversamente da noi grazie a dio hanno abitudini diverse hanno punti di vista differenti le cose su cui non è lecito essere come dire in discordanza sono quelle in teoria che sono quelle che riguardano la fede la morale la verità oggettiva che non sono tante però attenzione noi dobbiamo sempre tenere presente nel nostro agire quello che fa nostro signore e imitarlo allora il fatto che una persona si sbagli quindi stia su posizioni oggettivamente erronee e quindi è inevitabile che io non posso essere d'accordo con lei però non significa che questo mi autorizzi per esempio a mancare di rispetto colui che è mosso da spirito di discordia poi lo vedremo nella particolare della contesa che è uno step successivo non rispetta la libertà che è certamente arbitrio quando quando cade nel male ma il nostro signore lo rispetta è libero arbitrio sì o no ci permette anche se non ci autorizza diversa la cosa eh quindi ci permette ma non ci autorizza e certamente non ha prova di sbagliare di peccare sì purtroppo purtroppo non purtroppo perché quello che lui fa è fatto tutto quanto bene sì perché lui ci porta e ci guida verso il bene verso il bene e verso il vero come con dolcezza rispettandoci non prendendoci a bastonate anche quando stiamo sbagliando non violentando la nostra volontà non fa così il nostro signore allora il superbo fa due cose o impone la propria volontà e quindi va in discordia con il prossimo su cose ripeto del tutto opinabili pensiamo su quante liti familiari dipendono da questo fatto qui no cioè e la pensiamo diversamente come cioè pensiamo alle le questioni tra marito e moglie tra suocere e nuora cioè su cose le persone sono diverse da noi pensiamo a quante cioè la uno ha una certa idea di come che ne so deve essere tenuta la casa di come devono essere educati i figli eccetera eccetera ecco per carità un'idea anche buona legittima ma la nuora ha un'altra idea che non è detto che sia tutto sbagliata ma siccome io penso che la mia sia l'unica giusta o la migliore paffete la devo imporre al prossimo questo è proprio un esempio sciocco è proprio un esempio stupido se vogliamo però ci fa comprendere allora la persona umile accetta che ci siano persone che la pensano diversamente e rilascia pensare diversamente se il pensiero diverso è oggettivamente sbagliato la persona umile vedrà se è possibile come dire entrare in un dialogo rispettoso e dolce per far riflettere la persona provandoci però capite cioè fa un piccolo tentativo fa una piccola avance dopodiché fa un passo indietro se vedete che la persona è chiusa fa un passo indietro queste sono catechesi vi raccomando quando una persona si vede che non è flessibile quando sta sbagliando oggettivamente ma non è flessibile quindi non è disponibile ad accogliere una correzione dopo uno ha fatto un piccolo tentativo deve fare un passo indietro comincerà a sbancare il cielo con la preghiera e se è bravo anche col digiuno e col sacrificio per la conversione di quella persona ma noi non possiamo entrare in discordia manifesta imponendo la nostra volontà anche giusta perché Dio non fa così molto semplicemente Gesù non fa così la Madonna non fa così ok secondo step la contesa la contesa è anzitutto è diciamo così si ha quando questa riluntanza a piegarsi e accomodarsi alla volontà altrui anzi piuttosto imporare la propria si manifestano non solo con idee e comportamenti o anche con parole ma con parole che poi diventano brutte allora polemiche insulti offese mortificazioni gratuite umiliazioni inferte al prossimo allora figlioli miei cari purtroppo queste cose non si possono fare non si possono fare non si possono e non si devono fare allora lo spirito di Dio rifugge dalla polemica io per esempio se posso esprimere un parere personale qui ci tengo insomma a dire non voglio certamente l'ambiente da talk show non è un bel ambiente non è un mio bisogno un ambiente né da frequentare come protagonisti ma neanche da 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 osservare come spettatori cioè i climi in cui vengono generalmente tenuti questi eventi che sono climi diciamo così volti sempre alla spettacola alla spettacolarizzazione è come dire sono humus sono ambienti ideali per provocare polemiche insulti offese umiliazioni di sempre poi il soggetto della situazione è spesso e volentieri quello che la pensa dritta o giusta valdano valdano diciamo dei buoni figli di Dio o anche dei sacerdoti in certi ring dove sicuramente saranno presi a pugni a sangue quindi cioè non sapranno più dove andare a parare i colpi cioè che a certo punto cioè o taci come il Vangelo ti impone però veramente allora è inutile che sei andato perché viene completamente sopraffatto o rispondi ma il problema è che in un'arena del genere non è possibile comportarsi secondo i canoni evangelici però noi dobbiamo comportarci secondo i canoni evangelici capite però così non 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 c'ha ragione di esistere perché noi a meno che non ci sia per esempio un moderatore del talk show molto molto rispettoso cioè noi il modus con cui noi ci poniamo è sempre un modo propositivo e rispettoso quindi che cerca di far ragionare le persone sulla base della forza della verità certamente spiegandola e proponendola ma non si lascia poi si travolgere insomma nella 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 rissa non è quello l'ambiente l'ambiente ideale le persone non si convincono a forza di polemiche a forza di insulti o a forza di offese quando noi vediamo ripeto che una persona non è aperta al dialogo sincero quindi ad accogliere e a confrontarsi con quello che lei ritiene essere un punto di vista diverso dal suo però ripeto noi dobbiamo scendere in campo solo quando è in questione la verità la fede o la morale perché lì non ci sono non ci sono margini per poter dire una persona va bene tu la pensi diversamente ma tanto è uguale no non è uguale però se la persona non ha questa disponibilità pensiamo poi agli insulti gli insulti non si possono fare noi non possiamo insultare il prossimo non possiamo offendere il prossimo non si può fare Gesù nel Vangelo ce lo proibisce se qualcuno dice al prossimo stupido sarà sottoposto al sinedio chi si adira sarà sottoposto al giudizio chi gli dice pazzo un'offesa ancora più grande ancora più distruttiva sarà sottoposto al fuoco della genna se ne va all'inferno quindi la contesa quindi questo spirito è dipendente dalla superbia e ordinariamente ripeto prorompe insulti offese vogliamo aggiungere volgarità chi mi conosce dopo divento monotono le volgarità bisogna bandir pensiamo al clima da sotto questo punto di vista al clima da social networks facebook e twitter tanto per fare due nomi di quelli un pochino più cioè a volte proprio si scade in come dire in cioè in cose che sono assolutamente inaccettabili d'accordo io personalmente non sempre ho tempo e modo di stare a controllare tutto quello che accade grazie a dio c'è qualcuno che mi aiuta ma non in tutti quanti social no cioè capisco dice che c'è una libertà di espressione ma certo che c'è una libertà di espressione uno può uno può anche si può dire si può dire tutto si può dire tutto io conosco ascoltato ho letto ho sentito persone semplici laici sacerdoti vescovi che hanno sottoposto a critica garbata e costruttiva l'operato di altri confratelli magari senza fare il nome o anche di qualcuno più in alto ancora d'accordo per carità non è che uno deve come dire necessariamente come dire uniformarsi o non ha la possibilità di esprimere un'istanza critica come dire un dissenso per carità dico però con il dovuto rispetto questo è una social è una piattaforma di un sacerdote cioè non si può come dire insultare glossolanamente il prossimo meno che mai insomma membri appartenenti alla gerarchia cattolica dentro un profilo di un sacerdote chi mi conosce lo sa bene non è che io voglio fare l'avvocato delle cause perse cioè io l'avvocato l'ho fatto poco quando potevo farlo ma non avrei mai fatto l'avvocato delle cause perse non ci si nasconde sotto un dito nessuno nega mio meno che mai insomma no che non sempre non dovunque per usare degli eufemismi cioè le testimonianze i comportamenti di cristiani di battezzati e anche di ministri siano certamente non siano riprovevoli per carità sì lo sono d'accordo se ne sentono tutti i colori oggi in giro però c'è modo e modo per contrastare queste forme di espressione del male c'è modo in modo c'è l'attacco diretto oppure c'è come dire un modo indiretto per farlo c'è l'insulto oppure c'è la critica garbata cioè la messa in evidenza serena del fatto che quella certa posizione appare è sempre meglio usare termini non è è così cioè se uno ha capito bene appare in questo modo qui a meno che non sia spiegata a meno che non sia circostanziata quindi questo stile io sto cercando di impararlo ma dobbiamo impararlo tutti quanti perché usare un altro stile significa cadere nella superbia anche se c'è ragione anche se quello che dici è giusto anche se il rilievo che fai è fondato spero di riuscire a trasmetterle queste cose cioè noi dobbiamo tendere ad uno stile che ci caratterizzi come figli di Dio come discepoli di Gesù Gesù ha detto di sì imparate da me che sono mite du mille di cuore è più facile vomitare veleno dare addosso sdegnarsi ma San Paolo dice scompaio ogni asprezza sdegno ira clamore maldicenza con ogni sorta di di malignità ripeto questo non significa prendere tutto per buono adesso lo vedremo quando si parlerà qua della disobbedienza in che senso si deve intendere la disobbedienza d'accordo a chi come e in che senso d'accordo quindi vedremo che l'obbedienza non è come dire l'appiattimento cioè che qualunque cosa ti venga detta da qualunque fonte in qualunque modo su qualunque materia direi sempre signor sì punto e basta signor sì punto e basta si dice sempre quando l'ordine parte da dio quindi quando l'ordine parte da dio con certezza non c'è nessun problema quando invece parte da coloro che dio rappresentano ordinariamente è signor sì poi vediamo però cioè ordinariamente è signor sì però vediamo ecco perché perché vediamo perché l'autorità vedremo ha degli ambiti e dei limiti in cui deve muoversi non può abusare del proprio potere né può andare contro la giustizia né può andare contro la verità perché altrimenti viene cioè perde il diritto di essere obbedita perché non possiamo noi per compiacere come dire in maniera servilistica ecco in maniera cortigiana oserei dire l'autorità umana sia essa civile o addirittura anche può succedere è successo nel corso della storia ecclesiastica san pietro dice bisogna dire addio piuttosto che agli uomini non possiamo fare questo qui quando ci si trovi dinanzi a cose di questo genere ecco quindi non è che avere un certo stile significa mettersi in una situazione come dire di servilismo come dire assoluto e a tappetino nel senso che va bene tutto no però c'è modo in modo di esprimere un dissenso una critica una posizione divergente questo noi dobbiamo impararlo perché qui ci sta di mezzo ci sta di mezzo il Vangelo ci sta di mezzo soprattutto l'umiltà perché quando cadiamo nella superbia punto interrogativo ecco altra cosa quindi prima di passare all'ipocrisia o meglio alla millanteria scusate per chiudere essere umili per dire non vuol dire a consentire a tutto dire sempre di sì però cambiano sempre completamente i modi con cui il disaccordo si manifesta o si esprime a parole perché un conto è agire con superbio sprezzo spirito di contese di discordia un conto è farlo con umiltà carità la regola dell'umile è che fino a quando è possibile è pacifico accondiscendente però esprime se necessario è importante soprattutto se è in causa ripeto la verità o la giustizia o il Vangelo o la morale o il Magistero della Chiesa autentico quindi pagatamente dolcemente a tempo luogo e modi opportuni il proprio parere però sempre presentandosi con modestia e con rispetto e mai come dire usando toni come se uno fosse titolare del Vangelo che non esiste però ogni tanto qualcuno pensa che lo ha scritto lui insomma e che questo si debba giustapporre ai quattro che già ci stanno però i Vangeli sono quattro non ce ne sta un altro ecco ora la millanteria la millanteria è un comportamento particolarmente odioso che a tutti quanti noi dà enorme certamente fastidio quando lo vediamo la millanteria consiste nell'aumentare falsamente la parvenza di eccellenza abbiamo visto che la superbia è l'amore e la brama della propria eccellenza di essere il numero uno se io mi invento titoli inesistenti meriti inesistenti cose inesistenti per apparire ancora di più il numero uno ecco sono uno che sta cadendo nella peccato di millanteria nel linguaggio comune questo questo peccato è una delle figlie della superbia viene indicato come boria come spocchia se vogliamo il personaggio del bullo dello spaccone che si non solo si vanta ma si gonfia come dice San Paolo non la carità la carità non si vanta e il vantarsi è la vanagloria l'abbiamo già visto ma nemmeno si gonfia cioè non si pompa addirittura andando a ricorrere a ciò che non c'è per apparire grande o più grande attenzione che oggi purtroppo che vogliamo fare questi comportamenti ce li abbiamo come dire all'ordine del giorno quindi l'umile non soltanto non si gonfia ma l'umile nemmeno si vanta quindi nemmeno presenta al prossimo i propri titoli anche reali e esistenti a meno che come capita qualche volta anche nella sacra scrittura San Paolo ogni tanto è costretto a tirare fuori alcuni attributi ma deve farlo per salvaguardare un bene più grande lui lo fa nelle sue lettere perché penso che sia noto questo qui però lo cito perché capiamo anche un pochino in generale in alcune comunità come quella di Corinto come quella della Galazia stavano andando alcuni pseudo apostoli a sfasciargli tutto quello che aveva fatto di buono e a disperdere questi poveracci a raccontare in giro che San Paolo era un cialatano che invece il Vangelo vero era quello che dicevano loro e San Paolo è stato costretto per come dire per salvare queste persone a doversi in qualche modo riaccreditare dicendo cosa hanno fatto questi per amore questi super apostoli li chiamano a un certo punto in una lettera questi superman del Vangelo cosa avrebbero fatto ma te lo dico io cosa ho fatto quali sono i miei titoli che mi porto dietro nei confronti di quello che ho fatto perché il Signore comincia a dire ho fatto 5 volte naufragio ho ricevuto non mi ricordo se 3 volte i 39 colpi veglie senza numero quindi dice queste cose per dire calmi prima di andare appresso a qualche falso profeta o a qualche ciarlatano insomma chiedetegli le credenziali queste sono le mie poi valutate voi a chi dovete credere quindi è chiaro che in questo caso non sta peccando di vana gloria meno che mai di millanteria perché le cose che dice sono vere ma in quella circostanza dire quelle cose attinenti ripeto ai propri titoli è necessario per salvaguardare un bene più grande su queste valutazioni che poi dobbiamo fare in coscienza è sempre meglio essere un pochino perché è sempre meglio dire qualcosa in meno che qualcosa in più però è da valutare ho un'altra figlia particolare è la pretesa di novità che cosa significa questo questo fatto potremmo anche chiamarlo per capirsi meglio la singolarità l'essere appariscenti l'attirare l'attenzione quindi ostentare cose inedite o del tutto singolari in modo da essere lodati notati e ammirati e qui pensiamo anche adesso figuriamoci ai nuovi scandali che si inventano manifestazione dopo manifestazione adesso non vorrei fare nomi pubblici spettacoli dopo pubblici spettacoli cioè non si finisce mai di come dire di scandalizzare perché per inventarti qualcosa di nuovo non c'è nessun tipo di attenzione diciamo alla a quello che veramente poi supera proprio le soglie della della decenza ma oggi purtroppo queste 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 cose sono all'ordine del giorno no quando vediamo queste cose poverini non si rendono conto probabilmente di quello che fanno ma sicuramente chi li muove è il tentacolo della superbia quindi l'era della comunicazione dei pubblici spettacoli esalta questo 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 aspetto ecco dipendente dal vizio capitale della superbia oh poi c'è l'ipocrisia il superbo è anche ipocrita generalmente qui abbiamo l'esempio eccellente non degli scandali nelle pubbliche trasmissioni come come abbiamo notato per quanto attiene alla pretesa di novità ma qui abbiamo gli esempi evangelici chi sono gli ipocriti per antonomasi lo sappiamo tutti quanti gli unici che hanno come dire attirato gli strali molto severi di nostro signore che nostro signore ha cercato di riportarli come sempre fa con dolcezza e con bontà alla virtù e poi però avendo visto che questi espedienti santi erano falliti prima di andare incontro alla passione gliela cantate sono spiamuti quanti insomma i farisei perché l'ipocrisia è l'ostentazione pubblica quindi esterna di inesistenti virtù o qualità al fine di essere lodati e stimati dagli uomini quindi attenzione che queste sono piccole sfumature questo è San Tommaso d'Aquino che nota queste cose qui mentre la la millanteria gonfia qualche cosa che in qualche modo magari in forma embrionale c'è no no l'ipocrisia è una ostentazione di facciata di una cosa che non c'è non c'è proprio e anche sotto questo punto di vista oggi assistiamo a spettacoli veramente insomma veramente poco edificanti ecco tutti i dettagli della logica dell'apparire e del primeggiare e del prevalere eccetera il superbo inoltre è attanagliato dai morsi della pertinacia che cos'è la pertinacia altra antipatica e bruttissima figlia della superbia la pertinacia è quella che noi comunemente chiamiamo la testardaggine la cocciutaggine o con termine un pochino più elevato la caparbietà il caparbio che consiste nell'impuntarsi e nel difendere ostinatamente e pervicacemente le proprie idee e opposizioni anche dinanzi all'evidenza contraria attenzione che questo specialmente in questi periodi in questi tempi non sarà difficile identificare la larga diffusione di questo di questo vizio la pertinacia quindi il rifiuto di mettere in discussione le proprie granitiche convinzioni anche dinanzi a dei dati spesse volte oggettivi che te le mandano in frantumi per forza cioè a volte il pertinace cioè per essere pertinace deve mettersi nella posizione di chi si benda completamente gli occhi quindi rifiuta volontariamente di vedere il punto di vista diverso dal suo è terribile queste sono bruttissime cose quindi Dio ci conceda la grazia ecco ci concedi la grazia di conservare sempre una mentalità aperta e flessibile di non essere mai testardi capardi pertinaci cioè di non avere mai la certezza assoluta che le nostre posizioni siano quelle giuste che quello che sto facendo sia la cosa giusta io dico per certi aspetti ma lo dico in maniera ironica però beati a voi per altri aspetti io dico Dio ce ne scampi e liberi cioè noi cioè un figlio di Dio quando matura certe convinzioni lo fa a volte con fatica utilizzando i mezzi necessari a questo scopo che sono innanzitutto la preghiera il chiedere aiuto al Signore l'acquisizione poi delle conoscenze delle competenze necessarie in ordine alle cose su cui dobbiamo farci una certa idea per prendere certe posizioni e poi ulteriore discernimento quindi come faceva la Madonna portare queste cose nella preghiera diciamo alla luce di queste cose come mi comporto come faccio e poi scegliere fermo restando che noi dobbiamo sempre avere quella porticina del cuore aperto perché se ti sei sbagliato e se ti sei sbagliato chi ti aiuterà ad uscire da un possibile sbaglio se tu ti trinceri e non sei pronto a mettere in discussione le tue cose cioè noi non dobbiamo avere paura di questo perché se stiamo nel vero e nella verità e questo sinceramente cerchiamo e questo portiamo nella preghiera non accadrà mai ecco che il Signore permetta che andiamo a passare dalla verità all'errore non succede questo non succede però l'atteggiamento aprioristicamente caparbio testardo cociuto come dire inflessibile certo di possedere la verità guardate che questo oggi io veramente sono sono veramente sono impressionante cioè sono colpito ma sono anche preoccupato per vedere quanto queste cose sono diffuse cioè qui pontificano tutti quanti dall'altro della loro inflessibile infallibile scienza dando insegnamenti a destra e a manca e tutti quanti devono adeguarsi agli insegnamenti inflessibili dati da destra e da manca a volte smentiti e contraddetti dall'esperienza dai fatti o da argomentazioni ferree quindi fondate su basi oggettive oi quindi ci guardi il signore dalla pertinacia attenzione poi questo per la persona che non è pertinace e non ha difficoltà a confrontarsi a consigliarsi quindi confrontarsi e consigliarsi quindi siamo sicuri che la stiamo pensando bene andiamo a fare un confronto costruttivo con una persona sagge e sapiente andiamo a chiedere un consiglio ad una persona sagge e sapiente anche gli uomini di governo un vero uomo di governo non è mai un dittatore mai perché il dittatore è una persona che è stupida quello che si pensa che che siccome c'è il potere possa e debba imporre sempre e comunque apodeticamente a tutti quello che lui pensa o pensare che quello che pensa è sempre la cosa giusta un vero uomo di governo e questo vale sia per il governo ecclesiastico che per il governo civile è veramente grande ed è un grande uomo di governo se si sa scegliere dei buoni consiglieri tanto perché uno sappia un pochettino come funziona la chiesa in pochi sanno per esempio chi sono nella chiesa i cardinali cosa stanno a fare nella chiesa i cardinali i cardinali fondamentalmente sono vescovi non è che sono altro da un vescovo sono però nominati dal papa perché li nomina il papa perché i cardinali sono i suoi consiglieri e quindi tra cui poi il papa ordinariamente viene eletto cioè che significa significa che quando il papa ha delle questioni delicate chiede consiglio si confronta è chiaro che decide sempre lui la suprema autorità c'era lui ma si consiglia si confronta con persone fidate e che sono state reputate capaci di collaborare con lui nel governo della chiesa universale adesso non succederà mai ma un papa che non chiedesse mai consigli ai cardinali non c'è per dire non farebbe una cosa fatta tanto tanto bene e ripeto è certo che lui se anche tutti i cardinali gli dessero su una certa questione un parere difforme da quello che lui ha maturato e lui in coscienza si mette davanti al Signore ci prega sopra e è convinto che quella sia la cosa giusta da fare per la grazia di Stato che c'è e per l'autorità che c'è nella chiesa può e deve fare quello che crede anche prescindendo dai consigli e dai giudizi degli altri ma non chiedergli a priori ammesso che questo accada non è mai una cosa fatta bene e qui veniamo all'ultima figlia della superbia con cui chiudiamo il nostro nostra conversazione odierna che è la disobbedienza allora la disobbedienza in senso stretto in senso stretto è la trasgressione volontaria di un ordine proveniente da Dio la disobbedienza la disobbedienza agiscono agiscono nei limiti consentiti dai loro poteri e qui si apre un campo enorme enorme un ordine un ordine paresemente ingiusto oppure contrario divini voleri in maniera oggettiva oppure esorbitante i limiti dell'autorità cioè dato come abuso non solo non obbligherebbe ad obbedienza alcuna ma ricorrendo questi casi sarebbe male obbedirvi e in nome della prudenza e della fortezza in questo caso occorrerebbe resistere ad un tale ordine e disattenderlo questo attenzione figlioli miei cari perché è un concetto che che deve rimanere fondamentale perché qualora si ci si mettesse in questo in questo campo l'obbedienza non sarebbe più una virtù perché l'obbedienza è sempre data a Dio in primis e a quelli che legittimamente lo rappresentano c'è sempre l'esempio macroscopico insomma questi esempi sono macroscopici però non ci si può come accadde a Norinberga da parte dei gerarchi nazisti rifugiare dietro gli ordini dati da Hitler per compiere le peggiori nefandezze e abbiamo fatto la strage delle fosse abbeatine e ma Hitler ci ha detto che dovevamo farlo e quindi noi siamo membri cioè lui è il capo del governo noi siamo collaboratori ha detto di fare questa cosa e si deve fare eh no e qui dentro l'ambito dell'obbedienza come dire alle autorità umane entra in campo la coscienza che deve essere ben formata cioè la coscienza è il luogo dove si manifesta la persona Dio ha la sua volontà per cui se si entra in quel classico conflitto di coscienza non dipendente da scrupoli attenzione o da mala formazione o da scarsa formazione della coscienza perché deve essere anche questo ma se c'è un conflitto oggettivo grave tra una disposizione data dall'autorità e quello che la coscienza profondamente avverte sono problemi sono problemi abbiamo il cardinal Newman adesso è diventato santo di Santa Romana Chiesa che ha scritto delle pagine molto molto edificanti e molto molto belle sotto questo punto di vista quindi ricordiamo sempre l'insegnamento fondamentale di questo grande santo canonizzato la coscienza è il luogo dove si manifesta per noi l'esigenza della volontà di Dio e quando la nostra coscienza come dire è turbata e ci ci imperisce di fare qualcosa bisogna seguirla Sant'Ommaso d'Aquino dice che la stessa coscienza erronea adesso spiegherò obbliga anche se è dovere di tutti quanti noi fare in modo che la coscienza non sia mai erronea che significa significa che se uno ha una convinzione di coscienza che si rivela poi oggettivamente sbagliata ma il soggetto pensa che sia giusta se la disattende quella convinzione pur erronea pecca non sono io che dico queste cose sto semplicemente riferendo è ovvio ed è per questo che noi dobbiamo fare sempre attenzione anche a ben formare la nostra coscienza perché faccio subito un esempio tra le sciocchezze varie che furono dette ma tanti anni fa quindi non sto facendo riferimento a casi recenti perché io li sentivo quando studiavo teologia c'era la famosa questione che ritorna sempre in tante salse differenti no dei divorziati risposati possono fare la comunione non possono fare la comunione a destra e a sinistra no allora che succede vedete come ogni discorso qualcuno diceva no considerando le situazioni particolarmente complesse di certe tragedie matrimoniali d'accordo il dubbio fondato che uno possa avere che ci sia un matrimonio cioè il giudizio se possono fare la comunione oppure no spetta la coscienza della coppia divorziata risposata e addirittura il sacerdote o la chiesa non possono entrare in questo perché c'è la coscienza e la coscienza deve essere eseguita allora è chiaro che qui siamo completamente fuori strada perché la coscienza non può mai e per nessun motivo mai e per nessun motivo andare contro la legge positiva di Dio ora in questo caso cioè quella che è la volontà di Dio e la legge di Dio è proprio certissimo non c'è nessunissimo dubbio perché la volontà di Dio è che il matrimonio lecitamente validamente sigillato in chiesa sia uno punto ci possono essere centomiliardi di come dire di situazioni o di cioè o di problematiche borderline capito per cui non si può mai infierire sulla persona o giudicare la persona che ha giudicato il tanto non ha sogno da un punto di vista oggettivo un discorso di questo genere non può reggere perché la coscienza non può mai andare contro una legge positiva di Dio e quindi non può essere invocata a sproposito ma deve essere sempre invocata a proposito non a sproposito però però quando è invocata a proposito la coscienza è il termine di riferimento supremo a cui noi dobbiamo rispondere perché è nella coscienza che si manifesta la voce di Dio bisogna imparare a distinguerla la coscienza è una cosa diversa dalla nostra volontà umana quindi dai nostri desideri non possiamo scambiare la coscienza per quello che ci va di fare e siccome ci va tanto di farlo lo attribuiamo alla nostra coscienza quindi concretamente bisogna fare molti distinguer e fare molta attenzione però dobbiamo essere presenti e attenti in questo ora fuori di questi casi quindi fuori dei casi di coscienza tuttavia e questo è ciò che hanno sempre insegnato i santi l'ubbidienza anche alle autorità costituite non solo che è un atto di virtù ma è un atto di virtù molto importante nel senso che addetta e a parere quasi unanime di tutti l'ubbidienza è l'unica virtù che il diavolo non è capace di simulare perché il diavolo è il disobbediente per antonomasia il disobbediente a Dio per antonomasia quindi è quello che non si non si piega attenzione il peccato originale di Lucifero non è stato semplicemente ribellarsi a Dio uno e trino no lui ha rifiutato di prestare obbidienza al verbo incarnato nella veste di uomo quindi questo è un pochino più complicato e di prestare venerazione come ecco lei che sarebbe stata lo strumento di questa operazione che è una pura creatura umana tra l'altro quindi molto inferiore a quella angelica ecco perché qui c'è una prova c'è una prova del nove ed ecco perché se uno legge le vite dei santi e vede anche gli schemi per esempio della grande tradizione religiosa no se uno legge le lettere di padre Pio quando raccontava qualcosa quel poco ha raccontato sul suo noviziato tutte le prove dell'obbedienza terribili se non c'avevi la vocazione scappavi te la davi a gambe perché l'obbedienza religiosa è proprio uno strumento di distruzione totale è proprio uno strumento di distruzione di massa che ti distrugge completamente la superbia l'orgoglio l'amor proprio quindi in una come dire in una vita religiosa come dire sana tonica quindi fervente di osservanza lì su questa cosa si è provato in maniera molto molto forte no ecco quindi spero di essere stato chiaro su questo delicato argomento quindi da un lato conservare sempre la nostra libertà di coscienza e il nostro confronto con la volontà di Dio per come la percepiamo dall'altro ricordare che fuori dei casi ripeto in cui c'è un peccato oggettivo in cui l'autorità va oltre i suoi limiti oppure emette un ordine palesemente ingiusto o contrario ai divini voleri fuori di questi casi l'ubbidienza è garanzia di virtù e preservazione dalla superbia perché di Gesù Cristo si dice nella Sacra Scrittura che è stato disubbidiente fino alla morte e alla morte di croce mentre che il disubbidiente per antonomasia colui che si oppone colui che dice no colui che dice non ti servo è il diavolo quindi detto questo non è tanto difficile comprendere da che parte ordinariamente dobbiamo noi figli di Dio situarci simili all'obbedientissimo e all'obbedientissima Maria Santissima e obbedienti sempre a Dio e a tutti quelli che lo rappresentano legittimamente salvo i casi che ripeto ho cercato sperando di essermi spiegato e di essermi fatto ben comprendere di tratteggiare ci vediamo se ti vuole alla prossima settimana che Dio vi benedica e che la Madonna sempre vi protegga a presto carissimi